siamo in amazzonia i calzini non servono ho già preso sette ortiche ma io complicherei scusa preciso secondo me quel legno non è scivoloso no prima legnata della giornata a caso no Grazie a tutti. 9 metri 9 metri 3 2 1 vai come? che dici? 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 19 19 20 20 20 20 21 21 23 23 24 25 26 26 26 27 26 buona dammelo tutto per farlo e vai fin più caro più caro nel vlog di oggi che è stato mortale il grande ritorno di comi anche se non lo so minchia che tono in botta comunque mi è caduta e lo no